Le video notizie di distribuzione moderna Consiglia nel 2019 ha avuto delle performance molto positive un trend di crescita ormai che dura praticamente da quando è nata la marca e questa crescita ha appoggiato essenzialmente su molte iniziative nell'area soprattutto del valore noi abbiamo ovviamente tutta una serie di prodotti nell'area mainstream che è un po' la basica però negli ultimi anni abbiamo sviluppato altre tre linee di valore che sono nell'area del biologico, nell'area del salutistico e nell'area del premium che ci ha portato molto valore aggiunto sia ovviamente al consumatore ma anche per noi quindi sono prodotti che normalmente hanno un valore che la marca industriale a volte non riesce a fornire per cui cavalcando un po' questo trend il 2020 andremo a lavorare proprio nell'allargare l'assortimento di questi prodotti, di queste categorie e ovviamente fermo restando che nell'area del mainstream andremo un po' a seguire quelli che sono i trend del mercato e quindi quello che i consumatori ci chiederanno per quanto riguarda poi sempre a livello di consiglia cercheremo di andare un po' a comunicare tutte quelle che sono le nostre iniziative, noi come sono non abbiamo mai comunicato in maniera molto approfondita se non spot, per il 2020 l'idea è di iniziare a comunicare in maniera un pochino organica quelle che sono un po' le caratteristiche della nostra marca e quelle che sono poi le nuove iniziative che andremo a implementare nel 2020. Toricamente non abbiamo mai avuto molte realtà all'interno del nostro gruppo però ovviamente guardiamo al mercato, se ci sono realtà che soddisfano quelle che sono le nostre richieste le nostre prerogative siamo aperti a parlarne, se no continueremo comunque a lavorare su quelli che sono appunto i nostri valori e i nostri principi. Il gruppo ripeto poggia molto della sua strategia su consiglia ma la realtà è anche quella di creare sinergie per i nostri soci, quindi il Sun si pone anche questo obiettivo di implementare progetti che porti valore aggiunto ai nostri soci e che renda credibile una realtà come il Sun, una centrale come il Sun. Il 2019 si è chiuso molto bene a livello di gruppo, abbiamo superato la soglia dei 3 miliardi di euro di fatturato che ci hanno portato una quota di mercato intorno al 3,5% poi bisogna vedere insomma il 100 che si legge, ognuno però legge un po' come vuole comunque siamo in crescita, in crescita forte, in crescita costante per quanto riguarda consigli abbiamo toccato quasi 160 milioni li supereremo sicuramente nel 2020 con le iniziative di cui parlavamo prima per cui direi che siamo molto soddisfatti anche perché questo risultato è frutto degli investimenti dei nostri soci tutti quanti hanno aperto punti vendita, hanno ristrutturato punti vendita, hanno piani di crescita anche per il 2020 quindi da una parte quello, crescite strutturali, quindi con nuove aperture dall'altra sicuramente iniziative legate al territorio quindi sostenere il territorio, sostenere la società in cui i miei soci vanno a lavorare, ad agire a livello di business per cui insomma siamo contenti, è un trend di crescita che dura ormai da tanti anni e anche per il 2020 siamo confidenti che questo trend possa continuare